qua e ciao ciao e e e ok ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi siamo al 6 di febbraio farò fatto un giro un po brevino qua sui colli bergamaschi diciamo fra una settantina di chilometri 20 ne ho già fatti e oggi video un po test per vedere le nuove inquadrature come vanno il gopro da una parte e c'è anche la dji osmo action che registra magari fra appena c'è uno spiazzetto mi fermo per vedere più che altro la registrazione della gopro e 123 123 prova ciao ciao ok guardate il deltaplano la quadratura che mi sembra che vada abbastanza bene ho solo ho solo abbassato un po che burda è che fa vero inoltre il deltaplano vagliante quello inoltre il deltaplano vagliante guardate il deltaplano vagliante Grazie a tutti. 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 Quindi, adesso ho attivato la Superview, ditemi se notate qualcosa di diverso, dovrebbe essere un po' più largo il visuale. Quindi ragazzi, io concluderei qua questo giro test, giro prova. Spero che vi piaccia un po' le nuove inquadrature. Questa sarà l'inquadrature, questa sarà l'inquadrature ufficiale, quindi anche della GoPro, visto che adesso non è in lineare, ma è in Superview, che dovrebbe essere un po' più ampio come roba. Quindi, questo giro test, quindi cosa ne pensate, come avete visto ho fatto anche una piccola dronata nei pressi del ponte Chitò. Eravamo a strozza, adesso siamo un po' più sotto perché mi ero accorto di non avere la Superview. Quindi ragazzi, concluderei qua il video, ringraziandovi di aver visto appunto il video, scrivete nei commenti cosa ne pensate delle inquadrature. Se vi sono piaciute, lasciate un bel mi piace perché così date una mano al canale a crescere, iscrivetevi al canale lasciando attiva la campanella delle notifiche, se non l'avete ancora fatto, così da restare sempre aggiornati. Io vi ringrazio e vi saluto. Ciao ciao! Ciao!